La chiusura anticipata della piscina Sinigaglia è solamente l'ultima mazzata sullo sport lariano. Mai come in questo periodo gli atleti e le società comasche hanno avuto difficoltà nella pratica sportiva. Gli impianti, costruiti decenni fa e raramente aggiornati, hanno iniziato improvvisamente a manifestare la loro vetustà tutti insieme. Lo sport comasco non è mai stato così mortificato. Partiamo proprio dalle discipline d'acqua. Alla piscina Sinigaglia negli ultimi anni è successo praticamente di tutto. A partire da un incendio alla sauna nel 2017 per concludere con il divieto di utilizzare il trampolino nel 2019 per colpa di un parapetto troppo basso. Per non parlare della copertura di gomma nella vasca, posticcia, posizionata per evitare il distacco delle piastrelle. Capitolo secondo, Mugio, vasca olimpionica, impianto storico, chiuso da luglio. Servono, servirebbero, interventi radicali perché la struttura sta presentando il conto salato del tempo. Capitolo terzo, il Campo Coni, la pista di atletica della città di Como. Dopo lavori lunghi, durati più del previsto, l'anello da 400 metri in Tartan è stato finalmente rifatto da zero. La struttura sportiva quindi è nuova e funzionale, ma gli spogliatoi e le docce sembrano quelle di una caserma anni 70. Di recente, peraltro, erano stati allagati da un guasto allo scarico, poi riparato. Capitolo quarto, Palasport di Mugio, e qui c'è poco da dire. La vecchia struttura era così malconcia da non poter essere tenuta aperta nemmeno con le deroghe più ardite e fantasiose. Quella nuova, semplicemente, non esiste. Infine, il ghiaccio. Stadio di Casate, impianto che ha visto crescere, tra hockey e patinaggio artistico, atleti di livello internazionale. Nel novembre del 2018 erano stati eseguiti interventi sulla copertura per risolvere il problema delle infiltrazioni d'acqua dal tetto sulla pista, che aveva portato a una chiusura temporanea. La copertura era stata sistemata, ma è necessario prima o poi puntare a un rifacimento completo del tetto. Mai come oggi, lo sport comasco ha bisogno di spazi. Spazi nuovi, sicuri ed efficienti.